ah dix ehi ciao stasera ti va di parlare si cominciamo dalla mia borsa dove finita con le altre prove quella borsa da palestra è una prova ha preso parte all'operazione i miei reggisogni sportivi non fanno parte dell'operazione questa è una violazione della mia privacy beh la buona notizia è che il team rispetta la tua privacy puoi stare tranquilla inoltre il team pensa che sia grandioso anche se un po prevedibile che tu abbia i reggiseni da wonder woman non li chiamerei proprio da wonder woman sono da wonder woman sono perfetti e si abbinano alle mie mutande da super non lo volevo sapere io non volevo dirlo allora riguardo a noi per quanto riguarda noi io non so che cosa fare cosa dice il tuo terzo cuore ok contrariamente a quanto dicono centinaia di ricerche io credo che i procioni siano monogami ok 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 Paglia ancora? 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 Paglia ancora?